Mariotto guarda i balli e li giudica senza amore, spara solo zeri e ti spacca il cuore. Zazzaroni in passato ha fatto il concorrente e pensa di essere davvero competente. E poi c'è Mattano che ha il tesoretto e fa il gioco duro calabrese in doppio petto. E Fabio Canino che fa il bambino alza la paletta ma a nessuno gli dà retta. E quando nello studio si creano momenti belli a rovinare tutto c'è sempre la Lugarelli. Caro Neil Smith si chiede dove sta guardando la giuria di scarsa qualità. Ma state tranquilli perché Miluigia lo sa che il prossimo anno la squadra cambierà. Ciao Neil. Quando la sera dopo il programma ritorno a casa, leggo i messaggi sui miei social. Ma non è facile divertire con quell'atmosfera in studio, con quella giuria che ti tratta un po' così. Ma vedrai, vedrai Che il prossimo anno lei non ci sarà E noi saremo tutti un po' più sereni e tranquilli E questa storia, grazie a Dio, finirà E dai Mannaggia a te, mannaggia a te, mannaggia a te Allora dobbiamo fare una cosa che riguarda il doppiaggio Fa la faccia così, sapete perché? Perché ogni cosa che faccio la pensiamo che adesso che mi fanno, è carina Allora io ho fatto teatro, lo sai che faccio teatro Anzi ragazzi ci vediamo un teatro il 16 dicembre tutta la stagione Allora, in teatro per imparare a scandire, specialmente tu che non sei italiano e parli bene l'italiano, perché sono anni che stai qua Ti insegno una cosa, parlare con il dito tra le dito Esempio, se io dico Zorro Zorro Ecco, non è Zorro, è Zorro, con la Z di Zorro Zorro Ok, va bene Allora, se io dico armadio, tu devi dire armadiazzo, ma con la Z di Zorro Armagliazzo Armadio Armaglio, armagliazzo Tavolo Tavolazzo 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 Sadico Mannaggia a te, mannaggia a te, mannaggia a te Oh, mannaggia a te, mannaggia a te, mannaggia a te